Ciao a tutti ragazzi, io sono Cordian, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale Allora, oggi c'è una questione, secondo me, importante, ma penso che sarà importante anche per voi, di cui vorrei discutervi Allora, vi avevo promesso, mi dispiace, ci hanno i commenti al video di ieri, che oggi sarebbe uscito il video di Subnautica E non l'ho fatto perché non... insomma, ieri sera ho avuto un po' da fare, ho avuto un po' di problemi, di discorsi che ora vi spiegherò E insomma, vediamo... vediamo un po' Allora, praticamente quello che mi ero ripromesso di non fare mai un video del genere, anche perché sinceramente Uno, non me ne frega un cazzo, e ve l'ho sempre detto in tutte le maniere possibili, cioè mi citeremo anche la voce e mi... amici in cazzo Allora, delle discussioni a me di Youtube Italia, non me ne frega un cazzo di niente E ve l'ho sempre detto, perché non ci voglio finire, non me ne frega nulla Fatevela prendere bene il mio motto, io gioco unicamente per divertirmi L'ho sempre detto, se ho aperto un canale Youtube due anni fa, porco mondo Porco mondo, chissà, un po' mi ci scappa qualche volta anche la bestemmia Se l'ho aperto due anni fa, un anno e mezzo fa, insomma, quanto cazzo è per divertirmi Allora, la cosa più importante secondo me di Youtube, non è tanto quello che si fa, i giochini di merda di cui si tratta Fanculo E quello che si decide di fare, le collaborazioni e tutto, ma sono le amicizie che ci nascono La cosa più importante non è tanto collaborare con Gabby, collaborare con Franzo, collaborare con Youtube o il cazzo che volete voi Ma è tirarne fuori un'amicizia Chi se ne frega poi alla fin fine dei numeri che uno raggiunge, del successo che uno ha, dell'invidia e quello che ti pare È amicizia, prima di tutto è una bella amicizia, me porca puttana Mi piacerebbe per una volta di aver trovato uno Youtuber con cui un giorno ci posso Posso andare a trovare a casa, ci posso andare a mangiare una pizza, bene una birra, cosa che non succede mai Allora, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e ve lo dico, ho anche qui il cellulare Ieri sera, così, no, per essere precisi, esattamente alle ore Ieri sera, esattamente alle ore 22.56 Mi chiama, mi fa, ero in live con Cry, con Yuri, avete visto, no? Che stavo facendo su Twitch e Gmod Mi squilla il telefono Al solito, no? Io lo stacco sempre quando vado a registrare Vado a rispondere e vedo che c'è il numero di Franzo, no? Chi vede che c'è il numero di Franzo mi piglia un, tra virgolette, come si dice a Levone, un mezzo coccolone Cioè, nel senso, è difficile che mi chiami Mi chiama a questa qui, che cazzo è successo? Lo chiamo e sento la voce, Andre Oh, com'è? Tutto a posto? Tutto bene? E ho detto, no, vai, che cazzo è successo? Cioè, oh, non lo so, sono una sega Problemi con la ragazza, ho avuto problemi con Twitch, YouTube, no? Invece no, mi stavo facendo lo scherzo Perché ovviamente me lo va a fare lo scherzo Del primo d'aprile, del pesce d'aprile La prima cosa e pezzi da fai, cioè, te lo farà domani Te lo fa con due ore d'anticipo La sera stessa Cioè, non ci ho creduto lì per lì Però poi mi ha detto, rientri, i miei iscritti Mi hanno detto su Twitch di Difatti, sto scherzo, non riesco a me ne parla, puttaneva Mi hanno detto, rifatti, sto scherzo qui Perché così, di chiamarti è fatto uno scherzo, no? Che poi, tra l'altro, dopo mi sono venuti anche a fare L'hashtag ride sul canale, che lo sapete È una cosa che non si può fare se li scarbano Cioè, fate chiudere il canale a Franzo A parte questo Vengono di là e tutto quanto mi fa lo scherzo Ok, l'ho fatto, al telefono l'ho fatto Oh, vangulo, amico, tutto così, come sempre, no? Perché lo conosco da due anni io, Franzo Primo server di Rustica per lui Subito gli hai detto in mano a sponsorizzarle e tutto E sì che, e niente, vabbè, l'ho fatto Vabbè, finisco la live, cinque minuti Ti hosto la tua, vai, grazie, ando e tutto Finisco la live, saluto Cry, Yuri e Likplo che erano con me su Gmod Va, fanculo, faccio prenda a letto Tempo di buono di uscire dal bagno E arrivo a letto e ho detto Ma, vediamo un po' cosa fa Franzo che gliela sta costando E ovviamente, categoricamente, Franzo era lì Che parlava male di me E Coridan di qua E Coridan è un falso E quell'arte Ma per cosa? Per far ridere due iscritti Cioè, è quello che a me mi fa girare i coglioni Porca puttana Cioè, ma uno Circa Oh, sto video vi mi fa cacarmi Perché l'avevo promesso Me l'ero giurato Sulla testa mia E dimmi pa che non l'avrei fatto mai Perché non sa di un cazzo E si fa solo per fare casino Ma mi sono rotto i coglioni Ragazzi, non si può parlare alle spalle delle persone Cioè, ma un minimo Amicizia magari su internet è difficile Perché dici Non ci si vede a live e tutto Ma un minimo di rispetto, puttaneva Anche Gabby Cioè, è una vita che ci collaboro Ma l'ha messo un metro nel culo Ma ragazzi, non si può far così Non si può far così Ma cioè Ma uno non va di T'ho aiutato T'ho fatto Perché se le cose le fai Le fai col cuore Che cazzo te ne frega Di dopo andare a rimangiare Però non puoi far così Che da un momento a un altro Cambi completamente E scompari Oppure non cacchi più le persone Poi stessa cosa Anche gli iscritti Perché poi non è un problema Soltanto gli altri youtuber E delle collaborazioni Che già mi fanno girare i coglioni E non collaboro più con nessuno Che mi sono rotto il cazzo Con nessuno Ma oltretutto Vai a vedere anche gli iscritti Perché magari sono fanboy di quello Ti vengono a dare contro a te Perché magari sono fanboy di quell'altro Viene fuori la guerra Come chiamo io e Beltasol Si dice sempre Per la guerra dei poveri Ci sono rimasto di merda anche di ninja Perché avevamo cominciato un'idea Un progetto e tutto quanto E anche lì me l'ha messo nel culo E anche ninja non mi sta cacando più E si sta iniziando a comportare male Cioè ninja che lo sapete Per me è come un fratello È veramente come un fratello E si sta comportando Veramente a merda Ma non si fa così ragazzi Poi soprattutto Non andate perlomeno A dire agli iscritti Vai da quello Buttaglione nel culo Vai a di parla male Perché poi Basta che dici una cavolata Cioè quello Sola sega Quella è andata a rubare un negozio I tuoi iscritti poi ci credono Porca puttana che ucciano Nemmeno la coscienza Di di Andiamo a vedere Interpelliamo la persona Chiamata in causa Per vedere se effettivamente è vero O è una puttanata madornale Come nel 99% dei casi È quello che a me Mi ci fa venire un nervoso Della madonna Diceva bene Gli otobi Ce ne fosse uno Che ragiona con la testa sua È così ragazzi Cioè Uno poi si rompe le palle Perché uno fa due video al giorno Fa una live la sera Ci mette l'impegno Spreca tempo Sta in caso Un esce Lo fa con piacere Perché qui nessuno lo fa Per lavorare Perché nessuno di noi Ci tira fuori uno stipendio Per campare Quindi Lo fa per divertirsi Soprattutto E divertire 50 e 50 E poi Ma non sa di un cazzo Di cosa sa A cosa siamo arrivati A buttarcelo nel culo A vicenda A me Sinceramente Mi è passata la voglia Ma non è che mi è passata la voglia Perché faccio le live su Twitch O così Proprio mi è passata la voglia Cioè Io mi sono rotto il cazzo Io quasi quasi lo regalo il canale Cioè Mi sono rotto Veramente Coglioni Di stare A fare Youtube Cioè Per cosa Un tempo dicevi Per la gloria Per il divertimento Per quello che ti pare Soprattutto per il divertimento Conosci bravi persone e tutto Ora per romperti le palle Per fatti Ci sangue amaro Di merda Tutti i giorni Per cosa Ragazzi Per cosa Io mi sono rotto le palle Vi dico la verità Io non ho più voglia Di fare Youtube Ora faccio questo video Mi tranquillizzo Esco un po' Tanto sto a Livorno sul mare Mi vado a fare una passeggiata Vado a trovare qualche amico o qualcosa Ci ripenso Mi prendo due o tre giorni per pensare Se c'ho voglia lo continuo Perché di continuare così Non c'ho più voglia Cioè Uno te lo butto nel culo Le persone che reputi amici Due E Gli iscritti che ti vengano a fare la guerra Per la guerra dei poveri Che poi non è vero un cazzo Perché non sapete niente E non sapete nemmeno Cosa andate a dire Io ragazzi Mi sono rotto i cogliori Cioè Ve lo devo dire sinceramente Lo sapete cosa c'è Buon pesce d'aprile a tutti Ragazzi Scusate Non è vero un cazzo Di quello che ho detto finora Ma è il primo aprile È il pesce d'aprile Ve lo dovevo fare Ovviamente Fatemela prendere bene Oh Non mi odiate Ragazzi È il primo d'aprile Quindi Non passate Ciao Ci si vede Col video delle 7 Ciao